Abbiamo Paliari il protagonista io direi di questa serata perché ci è messo ancora una volta i guantoni e che guantoni? Secondo me quell'opzione di riscatto il Genova se la starà mangiando? No, sono contento. Settimana scorsa ci siamo visti dopo la partita col Cosenza, avevo messo la faccia parlando appunto con te dicendo che comunque saremmo venuti a Genova a fare una partita di sacrificio, di voglia di lottare su ogni pallone sapevamo di trovare davanti oltre a un pubblico veramente nuvenoso una squadra che è nata per vincere questo campionato è stata una partita sofferta, lo devo dire, però io credo che un minimo si sia vista la voglia di sacrificarsi uno per l'altro la voglia di combattere su ogni pallone magari non siamo stati precisissimi davanti o qualche situazione non è stata eseguita al meglio però alla fine venire qui e riuscire comunque a dimostrare di poter combattere contro una corazzata come il Genova credo che dobbiamo dirlo. Attenzione ma anche una maggiore copertura, siamo onesti con la difesa a 5 nella fase di non possesso e più garanzia, una maggiore garanzia soprattutto quando giochi contro squadre che hanno un attacco importante come quello del Genova Sì, abbiamo studiato stasettimana vedendo che comunque sarà un campionato difficile sappiamo bene quali saranno i nostri obiettivi e quindi dobbiamo renderci conto anche che tante partite magari forse è meglio coprirsi un pochino di più e sfruttare le ripartenze con i due attaccanti visto che comunque abbiamo due attaccanti entrambi forti potrebbe essere un'altra strategia una freccia in più nel nostro arco è difficile tante volte capire prima di una partita quello che poi dovremo fare al 1000% però da un lato quando riesci a fare comunque un risultato in una città così bisogna sempre magari vedere anche il lato positivo per me da qua potrebbe ripartire un bel nuovo filotto, io lo spero per poi toglierci anche qualche soddisfazione in casa perché il pubblico ha risposto bene e vogliamo chiaramente anche gratificare loro Grazie, studio Complimenti Alberto, buonasera e ben trovato due domande flash quanto ti senti cucito addosso questa maglia? Lo sottolineiamo benissimo Sonia Benevento esercitato, ha voluto fortemente il diritto di riscatto e quanto, voglio chiederti, a tuo avviso hanno influito anche per darvi una spinta positiva a questi rumors di mercato specie delle ultime 48 ore Io sono contentissimo di essere a Benevento già nell'intervista che feci con Sonia in ritiro lo dicevo, con la mia famiglia mi trovo benissimo e sono contento di poter vestire questa maglia per i prossimi tre anni Sui rumors di questa settimana da un lato per qualcuno di noi, magari più giovane, può averlo destabilizzato non lo neghiamo fare un ritiro comunque, leggendo certe notizie, non è mai positivo però noi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo sappiamo che dobbiamo dare il 100% per lo stemma che portiamo sul cuore che è molto più importante rispetto al cognome che abbiamo dietro quindi se lottiamo e se ci impegniamo al 100% sono sicuro che qualche bella soddisfazione ce la porteremo a casa Billy Nuzzolillo per te Ciao Alberto, è nudo che ti faccia i complimenti sai, ti stimo dai tempi del Cittadella anzi mi chiedo sempre perché le squadre di Serie A non abbiano, come dire, dedicato attenzione alle tue prestazioni e ti abbiano acquisito detto ciò, volevo sapere un po' dal punto di vista mentale in questa partita si è vista una squadra diversa con molta più grinta e cattiveria dipende dal risultato di domenica scorso come reazione al secondo tempo negativo di domenica scorso oppure hanno influito anche queste notizie che sono trapelate in queste ore? No, buonasera intanto non glielo so dire anche perché quello che penso io magari non è quello che pensa qualche altro mio compagno io sicuramente sapevo che per venire qua e fare una partita importante bisognava per forza di cose mettere qualcosa in più rispetto a settimana scorsa e io credo che dal primo all'ultimo dei miei compagni anche chi è entrato oggi l'abbia fatto e se partiamo così come dicevo prima se ripartiamo in questo modo con la voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro sarà bello sappiamo anche che se dovessero mancare queste caratteristiche per noi in questo campionato così difficile sarà dura ma praticamente tutte le partite davvero da adesso in poi saranno partite importantissime abbiamo Frosinone, abbiamo Cagliari, abbiamo Venezia non dovrà mai mancare questo atteggiamento questa è la base su cui partire e poi cercare di fare i risultati è un benevento che chiede tempo nel senso che ci sono stati degli innesti giovani magari dei calciatori che per condizione fisica per caratteristiche devono trovare ancora la migliore il miglior stato è un benevento che sta cercando un po' di trovare questo equilibrio alle volte trovi una squadra che è subito pronta un'altra che magari ci mette più tempo no, sicuramente sì l'unico grosso problema è che non ne abbiamo tanto di tempo perché mai il campionato è iniziato e mi dispiace anche per Ilias per questo problemino che ha avuto che non è venuto con noi in trasferta speriamo che con le visite che farà stasettimana non sia niente di grave perché è un bravissimo ragazzo e me lo auguro davvero è giovane, ha tanta fiducia dalla parte della società quindi spero per lui che non sia niente di grave però Sonia hai ragione noi dovremo veramente rimboccarci le maniche e anche fare allenamenti specifici per poi dare il 100% in campo è l'unica cosa che veramente posso dire grazie 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 grazie